Presentata all'emiciclo nella sala a lui dedicata, la diciassettesima edizione del premio giornalistico intitolato a Guido Polidoro, giornalista indimenticabile che ha formato generazioni di cronisti, storico capo della redazione del quotidiano Il Messaggero. Il premio è organizzato come sempre dall'Ordine dei giornalisti d'Abruzzo, in collaborazione con la Fondazione Carispa che collabì per e prevede come sempre diverse sezioni. Al bando rispondono con i loro lavori in gran numero, lavori di qualità peraltro, il lavoro della Commissione è sempre stato un lavoro abbastanza difficoltoso proprio per il livello di qualità dei lavori dei colleghi che partecipano al premio. E' importante celebrarlo perché per noi Guido Polidoro rappresenta, per noi come categoria rappresenta un paradigma di riferimento non solo sotto il profilo tecnicamente professionale ma anche sotto il profilo se volete della deontologia, dell'etica della professione giornalistica perché lui è stato uno di quei giornalisti che ha anteposto la qualità dell'informazione a qualsiasi altro interesse. E' un premio molto significativo soprattutto perché esprime un valore di grande onestà sotto il punto di vista dell'informazione. C'è un ricordo di Guido Polidoro da parte unanime che è stato un maestro, un maestro del giornalismo, un maestro a tutto campo nell'intera regione avendo fatto diverse esperienze, avendo partecipato anche alla formazione del primo ufficio stampa di questa regione, a lui dedicata una sala dell'ufficio stampa ma anche perché il suo messaggio era rivolto ed è rivolto ai giovani. Il messaggio che lui ha lasciato è fare l'informazione in una maniera puntuale, con passione ma soprattutto un'informazione vera, un'informazione onesta.